Guillaume Kesk, appena di rientro dalla trasferta a Cannes, come è andata queste tre giorni? Sono andati bene, è stata una trasferta molto interessante, abbiamo fatto due amichevole con Cannes e sono stati due allenamenti molto buoni e torniamo adesso e domani ci alleniamo di nuovo qua a Modena poi per partire sabato a Lazina. Che partita ti aspetti a Lazina? È una partita difficile, è un palazzetto abbastanza piccolo e una squadra tosta quando gioca in casa e noi cerchiamo di andare lì per dare il massimo della nostra parte del campo e piano piano speriamo di cercare qualcosa a qualche punti lì.